Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di Siderweb. Oggi 17 ottobre alle 11. Vime Fastners terrà un incontro con gli investitori per presentare la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno e i principali dati economico-finanziari consolidati al 30 settembre 2022. Si terrà in modalità ibrida sia di persona che online per informazioni www.vimefastners.com. Da oggi fino al 21 ottobre ad Aachen in Germania si terranno due conferenze organizzate dallo Steel Institute dell'Associazione Tedesca dei Produttori Siderurgici dal titolo Clean Technologies in the Steel Industry e European Oxygen Steelmaking Conference per informazioni e osc-ctsi.com. Domani martedì 18 ottobre la BCE pubblica il rapporto sulle condizioni finanziarie dell'eurosistema, la CEA pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa a settembre e a Roma e online dalle 9.30 si terrà il convegno dal titolo Infrastrutture e Manutenzione oltre gli slogan Per un Tempo Nuovo organizzato dall'Associazione Nazionale Costruttori ed Ili Ferroviari riuniti per informazioni anceferra.it. Mercoledì 19 ottobre si tiene la lezione webinar del Centro Inox dal titolo La morfologia dei fenomeni corrosivi degli acciai inossidabili per informazioni e iscrizioni centroinox.it. Giovedì 20 ottobre alle 17 il gruppo Danieli presenta il bilancio chiuso il 30 giugno per informazioni danieli.com. Stile alle 15 terrà al webinar il metodo stile opportunità per le imprese per informazioni stileplace.it. Infine l'Istat pubblica la produzione nelle costruzioni ad agosto. Venerdì 21 ottobre Trafelix Industries presenta alle 16 il volume Metallurgia degli acciai parte seconda di Marco Boniardi e Andrea Casaroli presso l'aula Carassa e Dadda, aula magna del Politecnico di Milano per informazioni marketing chiocciola lucefine.com. Vi ricordo prima di chiudere gli appuntamenti per questa settimana un importante evento della prossima settimana organizzato da Siderweb torna infatti bilanci d'acciaio lo fa al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia di Milano dalle 15 alle 18 di giovedì 27 ottobre. Bilanci d'acciaio vi ricordo è lo studio delle performance economico finanziarie della filiera dell'acciaio basato sull'analisi di oltre 5 mila bilanci chiusi. Al 31 dicembre 2021 verranno presentati anche i risultati di un sondaggio sulle attese per il 2022 e per il 2023. Per iscriversi basta consultare la pagina dedicata nell'area eventi di Siderweb.com. Ed è tutto per questo appuntamento con l'agenda che torna lunedì prossimo. Grazie per l'attenzione e buona settimana.